Roncitelli celebra questa sera la sua rievocazione storica. Il piccolo centro in comune di Senigallia celebra la fondazione del suo castello edificato ai tempi della presenza del cardinale Albornoza alla fine del Trecento. Ieri sera sono state aperte le tradizionali taverne, le gare sportive, si sono viste le rappresentazioni degli antichi mestieri e i primi spettacoli teatrali. Stasera la sfilata del corte è un costume trecentesco per le vie del paese. Bene, era l'ultima notizia, si conclude qui la prima edizione del T3 Marche, adesso c'è il meteo, poi di nuovo T3 per la parte nazionale. Arrivederci e buona domenica. Noi, Ugolino di Piediscusso di Rocca Contrada, per grazia di Dio e della Santa Mare Chiesa, Vescovo di Senigallia, procuratore e nuncio della reverendissima padre del signore Egidio, cardinale di San Prevento, delegato della sede apostolica, avevo ricevuto dall'editto legato e dallo santissimo primo senso testo papa, lo mandato per prendere tenuta dello castello di Roccitelli. Noi, massari dello castello di Roccitelli, consegniamo a te, Domino Ugolino, Vescovo di Senigallia e padre nostro, le chiavi delle porte dello castello e dello fortidizio, e fammo atto della salazio e sottomissione, della nostro castello allo legato Egidio, allo papa e alla Santa Mare Chiesa, e promettemo perpetua fedeltà e obbedienza. Ed è montato a mezzo alto, senza l'aspettare mandato e lo legato e del padre. Nominiamo capitano dello castello in nostra regia di Cicchino, di Giunta dell'Ontitelli, dando a lui le chiavi della Forza dell'Ontitelli a nome della Chiesa Romana. Io, Cicchino di Giunta dell'Ontitelli, ricevo la chiave da te, Vescovovo di Lino. Io, Notaro Cecco Di Vanni, confirmo e ricevo il giuramento in nome delle Sacre Sculture, da Cicchino di Giunta dell'Ontitelli. Esulta, popolo dell'Ontitelli, esulta e fate festa! Grazie a tutti! 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 vuoi giocare con le noci? tira fuori l'euro orsù dunque accorrete e con fantasia e ingegno ai giovani poeti date il vostro sostegno metterò questi cattivi pensieri all'agonia perché meritano solo di stare nella fogna ma torniamo a noi ma torniamo a noi vieni è vieni è Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti.